Vabbè. Quindi niente. Nei commenti, come al solito. Sì, sì, scrivano nei commenti. Ecco, vedete, arrivano tutte le orde. Questi sono livelli base a modi tutorial, quindi pensate dopo sono stanze molto più grandi, orchi di ogni tipo, quelli giganti, quelli di sprogo imbaricati, i kamikaze, qualsiasi cosa, veramente. Tutti in mille pezzi. Dunque, ecco, vedete, orde di mostri. Qua in alto c'è la minimappa che ti dice quale percorso fanno. Qua c'è una mappa, un percorso, cioè che entrano, da qui arrivano al Nexus. Solo mappe dove entrano, magari da cinque punti diversi, quindi ovviamente la difficoltà aumenta. Attenzione, lì c'è un orso con uno scudo, attenzione. E niente, è così. Effetti audio fantastici, devo dire. Questo è il guardiano che ti cura. Unchained Metro, è una novità di questo nuovo capitolo. Non penso ci fosse nei precedenti. Eh, così. All'orientare gli sgherri. E niente. Cos'è? Un gioco che si chiamava Orcs Must Die Unchained, che hanno chiuso due anni fa. Però, quest'estate esce su Steam. Il 3, che bello. We have Gianna Trolling. No, I win. E che cazzo. E che cazzo! Prende la W che mi dà Moven Speed. You vs Mord. Ecco qua! Eh? Moethe Kaiser chi? Vai, c'ha anche... C'ha anche il Doranzling, molto bene. Meno Sustain. Uffete! Ti diverti? Me lo sentivo che non c'era. Appena mi ulta sui cazzi miei, ma con Gianna, bro. Cioè, se mi ulta, c'ho quattro modi diversi per tenerlo lontano. Mic check? Am I coming in? La Q, la W, la ulti, il Ghost. Già, guardatele a Moven Speed che c'ho. Starà pullando? Vai di Ludens? Certo. Allora, Gianna P ha una particolarità. Ecco qua. E lui parte con metà vita. Ha una particolarità. Più AP compri e più Moven Speed c'ha. Guarda, guarda! Guarda! Lecco sederi! Eh? Guardate lì! Mamma mia, ragazzi. Eh sì. E voilà. E già diamo un fastidio allucinante. Eh! Attenzione! Ah! Che cazzo. Puffete! Non può fare nulla contro la Gianna. Nulla! Nulla, ragazzi. Nulla. Impotente. Come Berlusca con le ventenni. Impotente. Non si muove niente. E... E... Troppo, troppo opprimente Oh, abbiamo un jungler che invade, mi piace Guardate la comet Come non lascia respiro a morde, poverino Un po' nulla Gianna è troppo forte, nerfate questo champion Nerfatelo Nerf Gianna, rito Cazzo Ero convinto di averlo preso What? Che è che sono un grissino ma non pensavo così tanto Va bene, va bene Ci sta Si impara sempre qualcosa di nuovo Vabbè 12 di arma, ho 37, c'è scritto qua 37 di arma e 39 di magic resist Ha fatto un movimento strano, non ho capito mai tutti quei danni onestamente Non c'avevo anche l'AE, vabbè non importa C'è una nuova notifica Ma è una Gianna ragazza madre Buon game Grazie a power per resab Non so in che senso ma non penso Grazie resab Sono ancora rimasto male per Per quella Q che non ho hittato L'ho convinto sarebbe arrivata a preciso la sommorda E ho detto Q, autoattacco, ignite Invece no Questo devo mettermelo prima Meraviglioso Che range signori Outrangiato di W Nulla da fare Oh cazzo, è andato dritto Ok, c'è la ulti però mo' la prendiamo anche noi Quindi Secondo me vuole ultarmi lui Che cazzo Oh Ecco qua La ulti di Mordecaiser Eccola Occhio Occhio Cazzo ho finito già i biscotti No, però non posso andare back adesso Dove continuare ad essere opprimente Però potrebbero arrivare masterie Eccolo La Nintendo Switch Con lo scaffo Oh Jesus Sto Red Buff Vabbè Va bene Non penso che potevo fare più di tanto Col Ghost me sarei salvato Proprio di così non potevo fare Direi che È stato comunque accettabile Grazie Ozzo per i dieci mesi Bentornato a verixarmi Un bicchiere per la mia nuova piscina Mamma mia Che palle sta Wave Forse si perde almeno il carretto Ah Ah Niente Ho preso l'ex per il carretto Niente Sculato come pochi Le scarpe Le scarpe mi arrivano Tra due minuti e mezzo Bevo Tuck Ozzo Grazie mille caro Grazie sub giftato Un altro bicchiere per la mia piscina Era ovvio che fosse Lì all'herald Poi il mio jungler Fatto il drake E 3-1 non gli possedi nulla Qua Posso far miracoli C'è anche Mastery Ah beh Gianna Top Camperata Mi sembra giusto C'è H-Bain Guarda quanto Non ha mana Bro Sciottalo Ma dai Ma che pussi che siete 381 Moven speed Qua viaggiamo Con la Moven speed Il problema è Nice Bravi E si Mastery Stai pure in top lane C'è una nuova notifica Molto bene Molto molto bene Visto Col jungler So buono pure io So buono pure io Col jungler Però farmare con Gianna È quasi peggio Che farmare con Alistar È tipo farmare con Alistar Però ranged Quindi È di base meglio Però Devo dire che poco ci manca Ok Prendiamo un paio di Un paio di plate Noi non ci mettiamo avanti con i soldi Duke Ecco qua Predictato Comunque lì in generale Ho visto che mi ulta Sempre quando Quando ce l'ha Quindi Basta giocare Intorno a quello Allora Allora Arriverò in 1900 gold Poi vado back Ecco qua Strunz Boom Back Abbiamo le scarpette Buono Abbiamo Ludens Ancora più buono Milosink Grazie del prime E benvenuto Averixarmi Caro benvenuto Abbiamo ma Bordello Oh ha rubato Buono ragazzi Mi piace i jungler Che rubano Specialmente Quello sono i miei Tutti morti Ottimo Ding ding Dung Molto bene Diff jungle Ma dai Il nostro jungler Sta giocando bene Ha anche rubato il drago Si è sacrificato Per rubare il drago Pensiamo agli altri Più che altro Che cazzo Stanno combinando Quelle altre scimmie Niente Vabbè Questo è l'uomo Al solito Il champion Che right click Ha di più vice Quattro kill Ha fatto Mastery così Ha perso un drago Non ha la minima idea Di come giocare Però Quattro kill Easy Attenzione Sono veloce adesso Puffete Eh Ha perso il carretto Ma per quel po' Che ci stava Almeno mi ha fatto Per che cazzo Lo mando Niente Niente Oh preso Attenzione Tuck What Easy Cioè io ho lanciato La W La W A mezz'aria È scomparsa Perché non Perché lui M'ha ultato Non è andato Cioè io non ho parole Pure i proiettili Annulla quella cosa Vabbè Kill di comet Ancora più soddisfacente Devo dire Mamma mia ragazzi Mamma mia Via Stia pure lì Signore Stia pure lì È qui Vabbè My team is retired Ecco Ha già messo le cose in chiaro Ragazzo Sappiamo già di chi è la colpa Sappiamo già di chi è la colpa Ragazzi Quanti c'è se a morde 85 No Lui non sta come me WP top Così perché Perché sono riuscito a scappare Beh grazie Grazie Così era questo Boh Vabbè Ecco Visto Top si fanno le kill ragazzi Due versus c Oh Ha incluso anche me ragazzi Anche io sto giocando Non è più Gianna top troll Avete visto Come hanno cambiato idea Adesso non è più Gianna top troll Avete visto Che bello Mi sento Soddisfatto Ecco qua Tempo di fare Una visita ai miei alleati Che vedo un po' male Onestamente Ah già Allora ho scritto Jin se non sbaglio Ah chi Quello che sta 1-4 Ah Ho capito Il Sergio pistolero Adesso ci penso io Oh yes Oh Il Sergio Perché è così veloce Vabbè Sergio too fast però eh Non vale così Oh yes Aiuto Tuck Cazzo hai detto Ah sarà meglio Mamma mia Sì sì Oddio Non c'è si può fare Mastery ragazzi Right click Uccide tutti Imbattibile Mastery a sto elo Imbattibile Better right click wins Cioè è proprio una legge È una legge della natura Non ci si può fare nulla Chi ha mastery Ha sto elo in genere Vige C'è niente da fare Contro mastery ragazzi Non c'è niente da fare Bah Master click C'è l'uelo È proprio un altro mondo L'uelo è proprio un altro mondo Ragazzi Gli sbroke Lo dicono tutti E poi tutti dicono Ma per mastery basta un cc Sì È vero Ma se quel cc ha questo elo Non sanno metterlo Perché non lo sanno fare Perché non lo sanno fare Non è che Non è che non c'è Poi che ci ci mettiamo con sto team Esattamente L'Everfrost C'è Guarda lì Guarda lì Guarda lì Ok Ma cosa volete fare esattamente? Uccidere me? Il Baron è troppo rischioso Cioè mi piacerebbe tanto Ma al minuto 20 Con mastery che fa pentakill È un rischio gigante You are idiot You know Cosa? Mmm Ok Slowato Slowato Ok Tim Hello Hello Oh ma No Sono casi disperati ragazzi Non c'è niente da fare Non c'è niente da fare L'UX di ulti Mamma mia Ok Ok Dunque Guarda lì come ci cercano Dove sono? Dove sono? L'UX con il Knight Harvester? Disapprovo Hello Oh ma Sta cazzo di ulti qua Oh 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 baby Uffete Mamma mia Che bestia ragazzi Oh 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 Che mostro Right click simulator Va bene lo stesso Prendiamo il Mejai Very fast Gianna Grazie Non palindromo Per i 28 mesi Bentornato a VX Army Grazie mille E poi qui ragazzi C'è la Playstation Webcam Merda È caduto tutto Oh Oh Attenzione Scopaggio universale Scopaggio universale Di Gianna Attenzione 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 Vai vai Chi sarà il prossimo Avanti Avanti un altro Scopaggio universale Di Gianna Ragazzi Arrendetevi tutti Non ce n'è per nessuno Gianna Sins Grazie Salix Grazie mille del sub Bello Un altro bicchiere D'acqua Per la mia futura Piscina Le rune Eccole qua Serve lo scopaggio Universale Di Gianna Sins Eh Eh Ok Ecco qua Scopaggio universale Di Gianna Sins Ragazzi Non è uno scherzo Back Ovviamente Andiamo di Rabadon Ovviamente Ma Lucian Ragazzi Cos'è sta build L'IKEA Due Clocco Fagility Morta Reminder Ah si si Oh Ragazzi Prendete appunti Questa build Molto importante Ecco Gli ha fatto male Gli ha fatto male Oh Fateli che pizze S'è preso Oh E invece Ho visto un flash Sul posto Mi sa proprio di sì No Lo prendo Guarda lì Metà vita Veigar Occhio Nano malefico Nano malefico Eh cazzo Eh cazzo Puffete No Uh Aiuto Via 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 Più veloce di me Quel ghost E con 504 Speed È comunque più veloce Vabbè Vabbè Right click simulator Ne abbiamo già discusso abbastanza Adesso ho 506 di movement speed La W mi dà 18% di movement speed Ah e ricordatevi una cosa Che Lo slow di Gianna Scala con l'ap Quindi non solo vado più veloce Ma slow anche di più In base a quanto a p ho Peccato che non c'è E purtroppo non riesco più a raggiungere Una volta Ti avvicinavi anche ai 600 di movement speed Senza problemi Perché c'era lo spellbinder Adesso non esiste più quell'oggetto Cioè Pensatevi un oggetto Che dava 120 di ap E 10% movement speed Rimpiango un sacco Rimpiango un sacco Video Roar Tigrotti Poi ti face la build con Rabadon E 5 spellbinder Arrivavi Fievic Sono 4 mesi Ma soprattutto adoro Questa Gianna Penso che la proverò Eh Ok Ok l'ho killato Però che cazzo Mmm Ah Oh Oh Puffete Vediamo questo Che è l'ultimo Drake Niente Bro io ci metto un po' a farlo Questo Oh Grazie Molto gentile Ok Rabadon Mmm Farebbe comodo la zona contro quel masterie Lo ammetto Però questo mi da tanto api ragazzi Non lo so Troll pick Il troll pick a precedenza Grazie Andrea per il prime Benvenuto a Erick's Army Spicchio 4 mesi Ben tornato Una Erick's Army Grazie mille Oh Vediamo la cloud soul Qua c'è masterie Oh 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 Masterie Smette di rarci fastidio per un po' Piateli Piateli Stai No Silas Mannaggia Silas E tutto questo Perché Perché masterie Non c'era Vieni qua Oh Coglione Beitato 630 Di scudo Eh sì Ottimo 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 Grazie Andrea Fabro per i 17 mesi Bentornato caro Lo scudo scala 90% di AP Oddio mi sa di Non lo so quanto eh Non lo so scala molto di AP però Mmm Boh Rune ma ve l'avevo fatto vedere Vabbè ve le rimostro Va bene C'è Sottomessi O no O no Sottomessi per bene Tutti stomaccioni Muscolosi Gli insetti Del void Cavalieri In armatura E poi arriva Gianna Con l'ombrello Luke More damage Than Silas Eh B E mo' Mai A Oh A Sottomessi per 99% Stig Dan A No Grazie a tutti